Sulla carta avrebbe dovuto essere il museo tranese di Giovanni Bovio, il grande statista e parlamentare che fra quelle mura era nato. Nei fatti per molti anni fino allo scorso mese di maggio è stata la sede dell'ordine degli ingegneri. Rimasta a Libera stava per diventare invece la dimora e chissà per quanto di una famiglia tranese già nota ai servizi sociali. Lui con qualche lavoro saltuario, lei incinta i due mesi del quinto figlio, gli altri quattro tutti minori. Situazione davvero delicata e complicata da un malore della donna che ha richiesto l'intervento del 118, peraltro, senza necessità di trasferimento al pronto soccorso. Situazione complessivamente ben gestita, con buonsenso e tanto dialogo, sia dai carabinieri, sia dagli agenti della polizia locale, sia dall'assistente sociale del comune. L'intrusione era avvenuta nel pomeriggio grazie alla capacità dell'uomo di arrampicarsi lungo una grondaia, rompere il vetro di una finestra, penetrare nell'appartamento e fare entrare il resto della famiglia dal portone. Ma non sarebbe stato semplice restare lì, anche se fosse stato loro concesso. Troppo improvvisato l'alloggio, totalmente privo di superlettili e persino di bagni. Da qui l'esito positivo della trattativa con la famiglia che ha accettato di scendere, quando è arrivata la rassicurazione che un istituto religioso la accoglierà per alcuni giorni. Nel frattempo il comune dovrebbe trovare un alloggio infitto, fino a quando la famiglia non abbia un tetto stabile.